Il mio nome e cognome è Alfredo Dente, sono il fisioterapista di Niki Hayden e del team Ducati Corsi. Ho cominciato tre anni fa praticamente, mi sono occupato di Chesi e di Niki quando Chesi è ancora in Ducati e poi quando Chesi è andato alla Honda sono rimasto con Niki e il team. Alcune cose sono cambiate però diciamo che l'impronta Ducati è sempre quella. È un lavoro di supporto, non è un lavoro diciamo chiave. Mi occupo in particolare del benessere del pilota insomma. È un lavoro abbastanza strano e atipico perché in realtà io sono un fisioterapista o terapista manuale, poi in realtà faccio tante altre cose. Per fare un esempio mi occupo anche dei caschi di Niki insomma. Mi occupo di assicurarmi che mangi bene quindi insomma mi rapporto con i cuochi nel team. Mi occupo anche così a volte del lato più chiamiamolo non dico psicologico ma un po' diciamo di strategia mentale insomma nel senso che se c'è qualche problema nel team ci si occupa dello stato d'animo anche del pilota insomma perché è importante e quindi diciamo che l'ingegnere di gara o il team manager o comunque chi ha a che fare con i piloti viene da me per parlare di queste cose ci sono dei problemi insomma di risolverli. È un bel lavoro insomma perché alla fine può a che fare un po' con tutti i personaggi nel team.